Ethan Winters, benvenuti! Adesso non dovrete fare altro che tornare giù nelle prigioni, attenti perché troverete alcuni nemici sia nella cucina sia nelle prigioni stesse e questo accadrà anche se avete svuotato le prigioni in precedenza. Appena entrerete nella stanza un meccanismo farà scattare delle inferriate che chiuderanno l'accesso alla bara. Raccogliete tutti gli oggetti che trovate sia nella nicchia a sinistra che nella cassa a destra ma concentriamoci adesso sull'enigma. Nella stanza avremo a disposizione questi due candelabri appesi che dovremo accendere. L'unico modo per poterli accendere è utilizzare questa torcia però coperta da un muro di mattoni. Per abbatterlo non dovremo fare altro che raccogliere la bomba artigianale che troveremo nella nicchia e lanciarla contro il muro. Dopo averlo fatto raccogliete tutti gli oggetti che trovate all'interno della stanza appena liberata e avvicinate il primo dei due candelabri alla torcia per poterla accendere. Per poter invece accendere anche l'altro avrete bisogno di sparare alcuni colpi in modo da fare incontrare due candelabri e quindi accendere anche il secondo. All'interno della bara troverete un occhio azzurro ma non vendetelo subito al duca perché potete unirlo a un anello che troverete in seguito. Ed esattamente come in Resident Evil 4 unendo due tesori essi aumenteranno di valore. Tutto qui ragazzi, io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Se il video vi è piaciuto supportatemi con un bel like e condividatelo con chi può essere interessato. Ethan Winters, welcome!